In arrivo una nuova coppia di ballerini per una notte alla puntata di sabato prossimo di Ballando con le stelle. Una coppia di danzatori per la puntata di sabato 19 marzo e precisamente saranno due campioni del mondo di calcio, Antonio Cabrini e Gianluca Zandrotta. Saranno dunque gli ex terzini della Juventus e della Nazionale di Calcio a calcare le tavole del palcoscenico dell'Auditorium del Foro Italico in Roma. Anche loro saranno in sfida e lavoreranno per consegnare ad una delle coppie superstiti dello show del sabato sera di Rai 1 quanti più punti possibili. Coppie di ballerini che settimana dopo settimana si stanno assottigliando sempre di più. Nella puntata di sabato scorso abbiamo infatti assistito ad una nuova eliminazione. Enrico Papi e la sua compagna hanno lasciato la gara, almeno per il momento, in attesa della puntata del ripescaggio, prevista nelle prossime settimane. Previste alcune sorprese nel corso della serata, di sabato 19, che ci dicono siano davvero succose.